Buon pomeriggio, buon primo maggio a tutti quanti, benvenuti al finale del Radio Rocella Roccontest Festival. Ecco qua, ah che meraviglia, che bella giornata di sole. Come vedete non siamo registrati, siamo in diretta, questo lo potete vedere, siamo in carne ed ossa, ovviamente io più in carne e tu più in ossa. Ma nella Cricelli, Nicola Procopio è qui per voi questa giornata. Ti presenti da solo, oggi me l'hanno affiancato a forza e quindi ce lo teniamo. Sì, a forza, devi fare il peso. Va bene, e allora cominciamo con i ringraziamenti Nicola. Sì, intanto diciamo che siamo anche in diretta perché Azzurra è lì pronta. Esatto, dicono di spostarci più al centro. Io ho gli occhiali non per il fanatismo ma perché c'è il sole che mi dà fastidio. Iniziamo a ringraziare gli amici di Azzurra a questo punto. Io ringrazio, guarda, il primo che vedo che è proprio qui alla mia sinistra sulla sua Ape Bar ed è Donato Toscano. Ciao Donato. Ciao Donato. Applauso anche a Donato che è lì che si becca fumi, birra, tutto per voi e per noi. E poi abbiamo ovviamente il nostro service, Giuseppe Di Chiera. Ciao Peppe. Fate un applauso anche a loro che da oggi si fanno il mazzo e non solo da oggi. Saludiamo anche il nostro ufficio stampa che ci ha seguito in questi nostri appuntamenti che sono Pino e Chiara Curtale, grazie per le bellissime foto. Eccoli qua davanti. E poi Antonio Falcone che non vedo ma so che è qui insomma. Quindi ciao anche ad Antonio. E poi Tony, ovviamente lo staff di Radio Rocella. Su Azzurra chi c'è oggi? Chi c'è? Possiamo sentire Azzurra magari. Abbiamo Tony L. Ci siamo, ci siamo, eccoci. Ciao Tony. Buon pomeriggio ragazzi. Manu non sei solo tu, vero? No. E nemmeno io oggi. E allora dici con chi sei. E vogliamo che sono col grande Frank Teti da Radio Valentina di Soverato. Un applauso a Frank Teti ragazzi. Ciao Frank. Accoglietelo. Ciao Frank, benvenuto anche tu qui. Ovviamente Mimmo Grollino alla regia. Mimmo Grollino alla regia. Mimmo Grollino grande Mimmo. Noi siamo pronti ragazzi. Voi? Anche noi, anche noi. Sì il pubblico? Il pubblico c'è? Siete in diretta via. Il video è in diretta audio perché ormai in Radio Nocella sul web abbiamo anche il canale di Radio Visione. E in diretta ovviamente su Radio Valentina e Radio Ecosud come abbiamo detto poc'anzi. Ci sono da ringraziare gli sponsor delle serate che hanno affiancato la nostra campagna qui del Radio Rocella Rock Contest Festival. Abbiamo Mr. L. Serigrafia e Stampa Digitale a Colonia Marina. Poi abbiamo Bottega Green per i suoi prodotti biologici, alimentari, biointegratori e quant'altro in Via Roma Rocella Ionica. Media Store Communications, Informatica e Telefonia a Via Roma Rocella Ionica. Bar Pasticceria, Gelateria e L'Angelo Dolce a Rocella Ionica. I supermercati Crai di Rocella Ionica. FG Energy, impianti di climatizzazione e sistemi solari termici, punto esclusivo di zona Sickens. Poi vernici professionali per private ed edilizia. Nuova gestione statale 106 a Signano. E infine, e non in ultimo ovviamente, ristoro del viandante ristorante e pizzeria B&B Affocati e Caolonia. Grazie ai nostri sponsor. E poi abbiamo anche quelli che noi chiamiamo gli amici di Azzurra, che ci seguono e ci sostengono tutto l'anno in tutti i nostri eventi. E quindi sono Immagine Stile Parrucchieri Unisex, con le sue tre sedi. Una qui a Rocella Ionica, un'altra in Contrata Favaco a Stignano e un'altra in Via Mingioia a Stignano. E poi Gioielleria Time & Style di Giulia Squillace, Via Roma Rocella Ionica. Stanno tutti in fila, vedi? Fatevi l'applauso, visto che siete qui. Allora, un applauso per ogni sponsor. Solo finanziano azzurro, quindi è giusto. Ristorante e pizzeria Gio Pizza, Marina di Gioiosa Ionica con Trada Spilinga. Pezzaniti Massimo, impresa di costruzioni, Rocella Ionica. Veronica Parrucchiera, uomo o donna, Marina di Gioiosa Ionica. Ottica Saverino, Rocella Ionica. Solution PC, Rocella Ionica. E infine, abbiamo l'ultimo amico di Azzurro, che è il Demacaff, il tuo caffè, il tuo Nicola. Distribuzione cialde e capsule per bar e privati. E poi, insomma, tanti altri che ci seguono sempre. Bene, spazio alla musica. Sì, abbiamo ringraziato il Comune di Rocella Ionica per il patrocinio. Comune di Rocella Ionica. Guardate che location, guardate. Fatevi un applauso, amici di Rocella, perché è davvero bello. So che siete anche, non solo di Rocella, c'è gente dappertutto. Quindi ci hanno raggiunto da ogni posto, da ogni posto. Da ogni posto, da ogni posto. Qui, da Rocella Ionica. Benissimo. Allora, i primi artisti, che in realtà questo è un fuori programma. E quindi noi li accogliamo a gran voce. Sì, sono pronti. Ci sono portati la clacca, eccoli qua. Dove è la clacca? Fatecela sentire questa clacca. Sono tutti questi, eccoli qua. Eccoli, super clacca. Allora, lui è, insomma, un artista internazionale. Ha girato il mondo. È di Marina di Gioiosa Ionica. E anche chi è con lui qua stasera sul palco, anche lui, insomma, artista internazionale, grande e bravissimo sassofonista. Ve li faccio ascoltare subito. E sono Gabriele Albanese al sax, e Armando Quattrone, chitarra e voce. Eccoli, eccoli. Ben arrivati, ragazzi. Vi lasciamo il palco, quindi non solo in Germania, perché ormai Armando è ormai in ogni dove, soprattutto in Germania, ma anche qui stasera. Il palco è per voi. Un applauso per i ragazzi. Ok, ok, eravamo venuti qui a Radio Roccella per fare un'intervista, in radio. E siamo finiti sul palco di questo festival, e siamo molto felici. Questa canzone si chiama Quando Si, forse l'avete sentita in radio quando è uscita l'anno scorso. Quando Si, quando Si, quando Si, quando Si, quando Si, no, quando no, quando no, quando no, ci facciamo litigando, sarà che sarà. Quando Si, quando Si, quando Si, quando Si, no, quando no, quando no, quando no, dopo rapidamente, anche se finisce dolcemente. Ascolto, giuro che ti ascolto La prima notte no E giuro che non ci proverò Ancora un altro passo e ora Sembra ci stai provando O forse lo sto immaginando Dici a, dici a, dico b Tu sei là, tu sei là, sono qui Però è perfetta questa notte E quando sì, quando sì, quando sì, quando sì No, quando no, quando no, quando no E ci facciamo litigando Sarà che sarà Quando sì, quando sì, quando sì, quando sì No, quando, no, quando, no, quando, no Troppo rapidamente, anche se finisce dolcemente Quando sì, quando sì, quando sì No, quando, no, quando, no, no Troppo rapidamente, anche se finisce dolcemente Grazie Che bello questo primo omaggio Come? Questo primo omaggio che sta molto di Pasquetta Finalmente è venuto il bel tempo, l'avete visto Lo stavamo aspettando, troppo vento, troppo freddo è rimasto quest'anno E finalmente ci stiamo vedendo un pochino di suono in questa marina Questa canzone si chiama Made in Marina Ed è nuova nuova Marina mia calo, c'è lo cianci Quando non ti vedi alla mattina E come questi cindi sono tanti Io ho nati così testi come stamattina Mi guardo un talo specchio e non mi vivo Mi guardo un talo specchio e oggi anche ripigliano colori Siete vivo, ripigliano colori E quando canti, e quando canti pari calo c'è lo taci E quando canti sento dentro solo pace Il tuo cuore si riposa in un momento E quello che tu senti io lo sento Sulle mani Marina Per me rimani Marina Resto qui per tutta la vita Ma come fa, come fa la mia Marina Come fa, come fa, come fa, come fa la mia roccella Come fa Suono da Locri ad Hamburgo La mia musica fa milioni di chilometri per stare dove sono Ma l'energia la sento solo quando a roccella sono A roccella sono A roccella E a tutti quanti pari calo c'è lo taci E tutti quanti sentono solo pace Lo cuore si riposa in un momento Il ritmo lo sapete già E sulle mani Marina Per me rimani la prima Sulle mani Marina Resto qui per tutta la vita Ma come fa, come fa la mia Marina Come fa, come fa, come fa la mia roccella Come fa Due mani, due mani Ciao, 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 ciao Grazie Vi salutiamo Con una canzone che al primo maggio ci deve stare Quest'anno in particolare Questa è la canzone fondativa dell'Italia L'unico colore che ha è quello della Costituzione Della libertà in tutto il mondo Io la canto ad ogni concerto che faccio In giro per l'Europa Soprattutto in Germania Ci siamo Una mattina Mi sono svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina Mi sono svegliato E ho trovato l'impasto Oh partigiano Oh partigiano Portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh partigiano Portami via E che mi sento di morire E se io muoio da partigiano E se io muoio da partigiano Ad ogni idea di seppellire E seppellire la sua montagna Sotto l'ombra di un bel fiore Tutte le gente che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella, oh bella Tutte le gente che passeranno Si diranno che è il bel fiore E questo è il fiore del partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà Na 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 Vai che pre, vai Cicchi, cia Cicchi, cia Si, questo è il fiore del partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella Ciao, ciao, ciao Si, questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà Na 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 Per la libertà Per Rocella Per la Calabria Buon divertimento Armando Quattrone Gabriele Albanese Grazie a Rocella Fate un applauso Intanto avvicinatevi qui ragazzi Perché dobbiamo darvi una cosina Intanto il pubblico Si può anche avvicinare Perché noi non vorremmo tutto questo distacco Ci piace essere vicino alla gente Avvicinatevi pure Tanto il sole sta per calare Al centro Così stiamo pure più freschi Vediamo anche il premio Allora io chiamerei sul palco Abbiamo due ragazze Oggi chiamatele radioline Facciamo le salite sul palco Un applauso alle nostre due radioline Eccole Prego ragazze Prego prego venite Questa è la nostra area Public Relation Loro consegnano due magliette speciali Come noi di Radio Rocella Vogliamo dare a voi Che siete venuti qui Come ospiti Una bella improvvisata Così si può dire Potete consegnare queste magliette Perché Radio Rocella È sempre la radio ufficiale Nella Rocella Jazz Festival Quindi noi consegniamo queste magliette Ad Armando Quattrone È Gabriele Albanese E tu mi lasci questo Mostratela Fatela vedere La nostra maglietta Ah ecco Visto che è bella Cioè loro vengono sempre in giro con voi Grazie Ho vinto Ragazzi ho vinto qualcosa Grazie Posso venire anche io Io questo me lo tengo però Va beh lo restituiamo a Gabriele Armando quanto ti costa la clac Ogni volta Quanto Il 20 Ci siamo 20 20 Forse è meglio se non parlo C'è troppi segreti in questo circolo No Cosa posso dire La vita ti porta a incontrare bellissime persone Dove ce n'è una bella Ce ne stanno altre 100 Che parole Queste sono parole Belle Vede Sincere Armando ci conosciamo da anni Sì infatti Sono felice di essere qui È stata una cosa molto spontanea Spero che l'abbiate apprezzata così com'era Veneva così Sempre Godetevi questo primo omaggio E l'estate che verrà Io e Manuela ci vediamo Ci vediamo in Germania Ci vediamo in Germania tra qualche giorno A cantare insieme Benissimo A speak and Deutsch Speak and Deutsch Esatto Viva Rocella Viva Cizzanova Grandi Signori Armando Quattrone E Gabriele Albanese Grazie per essere stati con noi Al nostro Grazie Radio Linea Radio Rocella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti